tu non hai idea di quanto hai rischiato oggi perché perché non funziona canva cioè il sito che utilizzo per realizzare le sigle del canale e che quindi hai rischiato di sentirti cantare a voce da me per fortuna all'ultimo momento si è ripreso ma questo non è stato l'unico inconveniente del giorno perché devi sapere che a volte capita mi hanno chiamato per un'urgenza e adesso devo in fretta e furia concludere questo video perché non sia mai che ti lasci senza anche perché l'argomento di oggi è particolarmente interessante di che cosa parleremo di un software che ci consente di sbloccare tutte quante le funzioni nascoste e sperimentali di windows 11 ma non solo è un software che non richiede assolutamente nessuna installazione e portable lo tiene in tasca e lo tiri fuori quando ti serve e funziona anche per tutte quante le funzionalità future insomma che vuoi di più e quindi non perdiamo tempo tuffiamoci a capovitto nell'argomento del giorno e se ti senti pronto iniziamo ma non c'è urgenza che tenga e che ci possa far perdere le nostre buone abitudini e alludo nella fattispecie a quella più importante di tutte che ci tutela dai pericolosi demoni che ruotano intorno alle divinità del tubo che sappiamo possono essere davvero implacabili e quindi con la massima scrupolosità e coscienziosità andiamo ad eseguire il nostro quotidiano rituale apotropaico disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va e andiamo avanti sì ma questo oggi in maniera un pochino inusuale perché volevo parlarti del sondaggio che ho proposto quattro giorni fa in community sul nostro canale youtube nel sondaggio chiedevo se eri interessato o meno ad affrontare anche delle tematiche con il nostro consueto stile si intende relative all'hardware e questo per districarci un po meglio in questo mondo complicato soprattutto per quanto concerne gli acquisti evitando magari di spendere troppi soldini laddove sia possibile risparmiare e fare degli acquisti oculati ebbene hanno risposto la bellezza di oltre 1500 membri della community e il 91 per cento di questi si è espresso in maniera favorevole e allora lasciami solamente riorganizzare un attimo questo studiolo perché ho bisogno di rimaneggiare anche un pochino il set e inizieremo quanto prima spero addirittura prima di natale a parlare anche di hardware e adesso andiamo avanti per davvero ed eccoci qui come prima cosa andiamo a procurarci gli attrezzi del mestiere che cosa facciamo apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca digitiamo come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it apriamo il sito e nella parte in alto ci sposteremo sulla sezione che si chiama downloads una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama vive tool potremo procedere allo scaricamento del file cliccando su questo pulsante azzurro ma nel caso in cui non riuscissi a trovarlo o non avessi voglia di scartebellare tutto quanto il sito ti basterà andare qui in alto dove c'è questa lente di ingrandimento cliccarci su e digitare ad esempio proprio la parola vive tool premiamo invio per effettuare la nostra ricerca e come vedi vive tool ci viene immediatamente mostrato facciamo un clic per andare a scaricare il piccolissimo file che lo contiene dopodiché andiamo a cliccare su questo pulsante per aprire la cartella dei nostri download chiudiamo la finestra del browser retrostante che non ci serve più e facciamo un clic destro sul file che abbiamo appena scaricato quello che si chiama vive tool meno 0.3.3.zip cliccato con il destro scegliamo la voce estrai tutto nel menu contestuale e clicchiamo quindi sul pulsante estrai in alcuni secondi si aprirà una seconda cartella che sarà quella che contiene i file che abbiamo appena estratto a questo punto andiamo a chiuderla e torniamo alla precedente dove troveremo la nuova cartella appena creata che è quella che ci interessa mi raccomando non è quella che finisce con punto zip bensì l'altra potremo trascinarla su un pendrive per tenerla pronta per ogni esigenza oppure più semplicemente come farò io sul desktop in modo tale da averla comunque sotto mano chiudiamo la cartella dei download e dedichiamoci invece a quella appena trascinata il file principale che si trova al suo interno è questo qui che si chiama vive tool in realtà basta aprire un prompt dms dos lanciare il comando vive tool seguito da alcuni parametri per attivare o disattivare letteralmente qualsiasi funzionalità nascosta o sperimentale di windows tuttavia ho notato che questa procedura potrebbe risultare un pochino complessa allora per aiutarti ho aggiunto ai file già presenti nel programma questo qui quello che si chiama attivazione punto bat lo apro un attimo per mostrarti come funziona come vedi il comando vive tool viene lanciato con il parametro enable che quindi va ad attivare una particolare funzionalità seguito dal id della funzionalità stessa come vedi in questo caso ho inserito due diversi id che corrispondono ad altrettante funzionalità sperimentali nella fattispecie sto parlando di due funzionalità riguardanti il ripristino di sistema che sono davvero molto interessanti ma sono presenti sulla versione canary ovvero quella destinata agli sviluppatori nel caso in cui tu volessi ricevere questa versione dovrai andare nelle impostazioni del sistema portarti qui a sinistra su windows update e attivare diventare membro del programma windows insider è una cosa destinata più agli smanettoni che agli utenti comuni ai quali di solito consiglio esattamente il contrario ovvero di andarci molto piano con gli aggiornamenti e infatti proprio in questi giorni come ti dicevo sto testando gli ultimi aggiornamenti del patch tuesday che sono appena usciti per cercare di capire se sono sicuri ed affidabili cosa che non mancherò di dirti appena avrò terminato i miei test se tuttavia sei un coraggioso e vuoi sperimentare anche le nuove versioni di windows non appena escono ti basterà iscriverti al programma insider e se non sai come fare niente paura l'ho spiegato in questo video che ti lascio linkato qui in alto ma torniamo a noi come ti dicevo il comando ha questa sintassi basta scrivere vive tool punto exe spazio non considerare queste virgolette slash enable spazio slash id due punti seguito dal numero dell'id relativo alla funzionalità che vogliamo attivare o disattivare a questo punto sarebbe logicamente lecito chiedersi dove si trovano questi id ebbene basta fare una ricerca sul web per trovarne letteralmente a tonnellate ma quello che ti consiglio è in realtà di usare molta prudenza nel utilizzarli anche perché magari nei prossimi video quando ci sarà qualche id interessante sarà mia premura sicuramente segnalartelo per ora impariamo semplicemente ad utilizzare il programma quindi chiudiamo questa finestra e facciamo la cosa più semplice del mondo ovvero semplicemente lanciamo il file attivazione punto bat facendoci doppio clic come vedi la prima cosa che succede è che ci chiede i privilegi amministrativi possiamo confermare cliccando su sì che vogliamo conferirglieli e vedremo che in pochissimi secondi le funzionalità saranno state attivate a questo punto premiamo un tasto qualsiasi sulla tastiera e il programma si chiuderà chiudiamo anche la cartella e andiamo a vedere che cosa abbiamo appena attivato nella nostra nuova versione canary di windows 11 per farlo ci porteremo qui in basso sul tasto start andremo ad aprire le impostazioni al suo interno ci porteremo sulla voce sistema qui in alto a sinistra e scorreremo in basso nella finestra che si apre fino ad individuare questa voce qui quella che si chiama ripristino apriamola e al suo interno vedremo che avremo attivato queste due voci attenzione perché si tratta in realtà di due voci che sono già presenti in maniera diversa probabilmente anche sul tuo pc con l'ultima versione di windows tuttavia nel momento in cui andrai ad aprirle vedrai che le schermate saranno diverse rispetto a quelle che vedrai quest'oggi e in particolar modo questa seconda funzionalità quella che si chiama indietro sarà molto probabilmente disattivata sul tuo pc quello che abbiamo fatto con l'uso di questo programma è stato sbloccare le due nuove versioni di queste importantissime a mio avviso funzionalità che un po lo zio bill ci ha copiato visto che ne avevamo appena parlato con lo script che aveva fatto il nostro buon chris vediamo di che cosa si tratta la funzionalità ripristina il pc ci consente di ripristinare il pc allo stato di fabbrica con due possibilità ovvero quella di mantenere i nostri file e i nostri programmi oppure di rimuovere tutto ad esempio nel caso in cui vogliamo vendere o cedere il nostro pc ad un'altra persona in questo caso io clicco su annulla e ti mostro quest'altra funzionalità che si chiama indietro e che fa qualcosa di molto ma molto simile a quello che appunto facciamo con lo script di chris cliccando infatti sul pulsante indietro avremo la possibilità di andare a ripristinare uno stato del computer precedente una cosa molto simile al nostro ripristino con un pizzico di brio in più che lo rende in qualche modo somigliante alla time machine di mac os ok ma adesso che abbiamo capito più o meno come funziona vive tool come dicevo prima una domanda lecita potrebbe essere quella su come trovare i relativi codici da utilizzare per sbizzarrirsi un po ebbene questo è uno di quei tipici casi in cui oltre ai motori di ricerca come dicevo prima ci può venire utile il nostro copilot se infatti lo apriamo e andiamo a chiedergli esattamente questo ovvero mi segnali alcuni codici interessanti da utilizzare con il programma vive tool vedremo che la relativa risposta potrebbe essere altrettanto interessante infatti oltre ad indicarci vari esempi di codici che potrebbero essere utili da sperimentare nel nostro pc come vedi ci dà anche la relativa sintassi da utilizzare nel prompt dei comandi dove potremo fare un semplicissimo copia incolla per fare qualche esperimento ma mi raccomando sempre in modalità amministrativa quindi ricapitolando se vorrai utilizzare questo comando ci saranno sostanzialmente due modi il primo dopo aver trovato i codici che ti interessano sarà quello di copiare il relativo comando come ho fatto io in questo momento in copilot andare ad aprire la cartella che abbiamo creato che contiene il file attivazione punto bat andare a modificare il file punto bat esattamente come sto facendo io in questo momento e al posto dei comandi di esempio che ti ho messo io selezionare questa porzione qua quella che parte da va il tool e finisce con il codice ed incollare al suo posto il codice suggerito da copilot oppure dal relativo sito web fatto questo ti basterà semplicemente chiudere salvando questo file e lanciarlo esattamente come sto facendo io in questo momento e come abbiamo già visto fare ecco fatto come vedi il nuovo comando è stato già implementato nel mio windows e quello che dovrò fare sarà semplicemente andare a testarlo il secondo metodo è un pochino più arzigogolato dovremo infatti portarci qui in basso sulla lente di ricerca digitare al suo interno cmd aprire il prompt dei comandi in modalità amministratore confermare anche in questo caso successivamente portarci sulla cartella che in questo caso si trova sul mio desktop digitando il relativo comando che cambierà a seconda di dove hai messo fisicamente questa cartella nel mio caso è questo confermare con invio e incollare al suo interno il singolo comando di vive tool che come vedi viene eseguito esattamente nella stessa maniera nel file punto bat ok come nelle migliori tradizioni ho fatto tardi ma non posso ancora lasciarti e quindi farò un pochettino più tardi perché devo fare un importantissimo ringraziamento quest'oggi ovvero quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti scappare e darti come di consueto appuntamento alla prossima grazie a tutti